Oggi presso la sede della Banca Popolare di Ravenna è stato presentato alla stampa il dottor Fabrizio Togni che succede al dottor Vitti nel ruolo di direttore generale. Dottor Vitti dopo 20 anni, adesso nella sua vita cambierà qualcosa lavorativamente parlando, cosa si porterà dietro di questa esperienza qui di Ravenna e che cosa si aspetta dal suo futuro lavorativo? Quello che ho imparato qui è che noi abbiamo fatto la nostra politica aziendale non contro il territorio ma insieme al territorio, non contro il personale ma insieme al personale e quindi abbiamo fatto tutte le cose insieme a quelle che sono le realtà del posto, insieme alle associazioni, insieme alla gente. Questo è quello che ci contraddistingue ed è un po' il valore della Banca Popolare. Quindi ho imparato a dirà delle varie tecniche lavorative questo sostanzialmente ed è quello che mi porto dietro, spero di poterlo applicare anche giù. Dottor Togni, come vive questo nuovo incarico alla Banca Popolare di Ravenna? È un impegno che mi gratifica particolarmente. Ravenna è una bella città, una città che in parte già conosco, anche se non per ragioni lavorative, quindi lo affronto con grande entusiasmo, con la consapevolezza di trovare una squadra molto compatta, molto preparata, di veri professionisti e quindi sono fiducioso di poter continuare l'ottimo lavoro che ha fatto il mio predecessore.